Si chiama Mare Magni un festival, il pesce nelle tavole pesaresi il 13 e il 14 novembre, questo weekend, sabato e domenica. Vedete il manifesto alle mie spalle, indica Piazza del Popolo, ma non sarà questa la location, questo perché le previsioni meteo non sono incoraggianti e dunque il festival si terrà a Palazzo Gradari. Sarà un grande momento dedicato al pesce del territorio, al pesce stagionale, quello di novembre, non solo il Passatello, ma anche si va dalla Mazzola, alla Sogliola, alla Triglia, al Moscardino, tante opportunità da degustare e da valorizzare. Un festival realizzato in collaborazione tra Comune di Pesaro, Confesercenti, Associazione Ristoratori di Confcommercio, Confartigianato e Alberghiero Santa Marta, ci saranno show cooking, ci saranno approfondimenti con gli esperti, si andrà alla scoperta dello stesso mercato ittico e dell'attività dei pescatori di Pesaro. Una o due giorni in cui poter conoscere, in cui poter degustare, in cui poter assistere agli show cooking, in cui poter entrare in contatto anche con i ristoranti che portano avanti questa cultura e che appunto faranno trovare nelle tavole questi piatti. È un bel abbinamento perché ci permette di fare un lavoro anche educativo, oltre che gustativo, sulla filiera corta e soprattutto sulla sostenibilità della pesca, che sappiamo essere un tema fondamentale anche rispetto alle sfide climatiche e ambientali in generale. Quindi è un'occasione per far conoscere il nostro mare, il nostro pesce naturalmente, quindi anche la stagionalità del pesce, soprattutto in questo caso nel mese di novembre, che è un mese anche molto ricco, ma che va ovviamente utilizzato nella maniera migliore, senza stravolgimenti di abitudini. È un modo per riscoprire le ricette, il principale protagonista sarà ovviamente il passatello di pesce che è stato indicato dalla Deco Comunale, con la commissione che si sta lavorando come piatto da cui partire per una valorizzazione delle Deco, che non sarà solamente cucina, ma anche tante altre tipicità del nostro territorio. È un'avvertenza importante per chi parteciperà a questo festival, sarà un festival assolutamente all'insegna della sostenibilità, all'insegna del plastic free. Bisognerà portarsi infatti il piatto da casa, un bel gesto semplice per un festival sostenibile. Portate il piatto, ve lo riempiamo noi, è questo uno degli slogan che accompagna questo Mare Magni, un festival. Il piatto è stato scelto anche, visto il periodo che è novembre, è un piatto della tradizione tipica pesarese che è il passatello in brodo di pesce, con le varianti anche col sugo di pesce. È un piatto che cerca di valorizzare i pesci tipici della zona e della stagione. Diciamo che potrebbe essere l'emblema come poi primo piatto Deco del Comune di Pesero, perché si spera che questa iniziativa abbia altri piatti da poter essere annoverati nel Comune come patrimonio della città. Sappiamo che ce ne sono tanti, l'occasione era per mettere il primo ed è stato il passatello in brodo di pesce. L'abbiamo fatto per incoraggiare un po' i consumi natalizi, quello di sicuro, ma non solo, è anche un fatto culturale, cioè cerchiamo di far capire alle persone che anche il mare ha una sua stagionalità, che il mare ha una sua filiera, quindi dalla barca del pescatore fino al piatto che ci arriva in tavola, ci sono diversi passaggi che poi devono essere considerati, devono essere capiti e bisogna conoscere.